possiamo ancora vedere i nostri amici per ora no e ci sono delle regole quando incontriamo qualcuno niente baci o abbracci possiamo dare 5 no nemmeno il 5 e tieni una distanza di almeno un metro dalle altre persone tra qualche mese potremo di nuovo stringerci per ora vogliamoci bene da lontano non fare il dinosauro stai attento noi non ci estingueremo andrà tutto bene